Pochi giorni fa dopo la richiesta ufficiale c'è stato l'inserimento del sindaco Lucio Greco nella commissione tecnica che sulla carta può anche decidere di rescindere per inadempienze il contratto di servizio stipulato con Caltacqua, gestore del servizio idrico integrato, una commissione che formatasi nel marzo di un anno fa non ha praticamente prodotto alcun atto e adesso alla ricerca di un legale e di un tecnico esterni che dovrebbero supportare i componenti soprattutto a livello decisionale. Una melina che piace poco al segretario confederale della Cisle Emanuele Gallo che già in più occasioni ha denunciato inadempienze da parte del gestore Caltacqua e un aumento spropositato della tariffa idrica. Ad oggi l'unica cosa che è stata deliberata dalla commissione è appunto la nomina di un legale e di un tecnico esperto che verranno pagati però dai comuni poiché la commissione non può assumere impegni economici. Secondo Gallo invece basterebbe che i sindaci comunicassero alla commissione le innumerevoli inadempienze di Caltacqua. Secondo il sindacalista infatti sembra che si cerchi solo di prendere tempo e di non cercare soluzioni. Ad oggi non c'è stata alcuna decisione emessa dalla commissione nonostante il recente disservizio che ha lasciato senza acqua per giorni interi quartieri della città. La commissione presieduta da Rosalba Panvini che è anche commissario straordinario e liquidatore del lato idrico per ora ha deciso di non decidere. Secondo Gallo un altro argomento da portare avanti è anche il controllo della tariffa del servizio che viene definita dall'Assemblea Territoriale Idrica che non è ancora stata costituita e che poi deve essere approvata dall'autorità arera. Costituire l'ATI è un obbligo da parte dei sindaci deve governare l'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato nei rapporti con Caltacqua e sostituire il vecchio ATO in liquidazione ma ad oggi sono passati ben quattro anni e si continua ad essere governati dall'ambito in liquidazione. Il sindacalista si chiede perché non venga formato. Tante falle gestionali e politiche quindi mentre i disservizi idrici sono all'ordine del giorno così come le bollette d'oro. Grazie a tutti.